Giovedì primo giugno, buongiorno Friuli e bentrovati a questo nostro primo appuntamento in diretta della giornata di oggi dedicato come sempre alla lettura dei quotidiani nazionali e poi locali. Vediamo però innanzitutto quali sono le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Andiamo a vedere cosa ci dicono gli esperti dell'Osmer Arpa con l'aiuto della regia La Cartina. Con le previsioni per la giornata di oggi eccole su bassa pianura e costa avremo cielo in genere poco nuvoloso sui monti e sulla fascia pedemontana variabile con probabili rovesci o temporali pomeridiani. Sulla costa soffierà a Brezza anche sostenuta. Vediamo le temperature sostanzialmente stabili rispetto ai giorni scorsi con massime attorno ai 28-30 gradi in pianura. Velocemente anche la situazione viabilità. Vediamo cosa ci dice il sito infotraffico di Autovie Venete. Al momento non ci sono segnalazioni di incidenti particolari. Vediamo i soliti cantieri sulla A4 e sulla A23. E ora subito i giornali nazionali, le prime pagine dei quotidiani nazionali in apertura di questa nostra rassegna stampa con la prima del Corriere della sera. La vedete alle mie spalle. In primo piano ci sono le dichiarazioni del governatore di Banca Italia, Visco, che dice Italia vulnerabile, il debito ci frena. Ora si intervenga. Questa la difesa di Visco anche per quanto riguarda la vigilanza di Banca Italia sugli istituti bancari italiani, Visco dice vigilanza corretta. Abbiamo fatto la nostra parte, dice Visco, che però appunto sollecita le riforme, riforme che dovrebbero andare anche a ridurre il debito pubblico italiano. Quello che, dice Visco, frena la crescita del Paese. E poi ancora rimanendo in Italia, la politica con il dibattito sulla legge elettorale, lo scontro fra Renzi e Alfano. Scontro finale, scrive il Corriere della sera, governo a rischio in Senato. Andiamo a leggere allora l'articolo che ci riporta anche le parole di Renzi. Se dopo anni che sei stato al governo, hai fatto il ministro di tutto e non riesce a prendere il 5% alle elezioni, non è un motivo per bloccare tutto. E comunque è un fatto positivo che i piccoli partiti rimangano fuori. Ricordiamo che Alfano è contrario all'introduzione della soglia del 5% per l'ingresso in Parlamento prevista dalla nuova legge elettorale sulla quale è stato trovato l'accordo su più fronti. Il segretario del PD Matteo Renzi rompe con Angelino Alfano che replica, Matteo insulta ma fa cadere gentiloni o no. E a proposito della tenuta del governo, la maggioranza è in fibrillazione, il Movimento Democratico è progressista. Ieri alla Camera non ha votato la fiducia sulla manovra dove è passato il provvedimento sui voucher. E così sembra orientato a fare anche al Senato dove i numeri per il governo sono risicati. Andiamo a centropagina adesso con la foto di Donald Trump che oggi comunicherà le sue decisioni a proposito dell'accordo sul clima di Parigi. Clima Trump verso lo strappo. Il presidente americano Donald Trump è ancora indeciso strappare il patto sul clima e ritirarsi dall'accordo di Parigi sulle emissioni sottoscritto nel 2015 da 195 stati o proseguire con quell'intesa dove l'America ha avuto un ruolo chiave nella promozione. Per ora nulla di ufficiale anche se sembra orientato ad andare verso lo strappo. Noi andiamo sulla prima pagina di Repubblica. Andiamo a vedere anche il titolo di apertura di Repubblica. Vediamo anche in questo caso Larissa PD Alfano verso il voto a ottobre e poi anche su Repubblica le dichiarazioni di Visco il governatore di Banca Italia che parla anche dell'emergenza lavoro. L'emergenza è il lavoro. E vediamo ancora. Trump vuole strappare l'accordo sul clima ma negli Stati Uniti è già protesta. Unione Europea e Cina resistono ma ci sono altri paesi con lui. E poi per quanto riguarda la politica vediamo l'intervista a Di Maio dei Cinque Stelle che dice primaria in estate la legge elettorale non è un inciucio dice Di Maio. Chiudiamo anche questo quotidiano. Velocemente le aperture degli altri maggiori quotidiani italiani. Andiamo sul giornale che titola così oggi Alfano scaricato da tutti. Angelino caduto. Renzi lo umilia. Parisi lo snobba. Il leader del nuovo centrodestra non conta più nulla. Campagna elettorale sotto l'ombrellone parla la sondaggista nelle pagine interne. Chiudiamo anche il giornale e andiamo adesso sulla prima pagina di Libero. Ecco il titolo di apertura. Case popolari solo ai Rom scrive Libero. Altra iniziativa scema del sindaco di Roma. La Raggi chiude due campi nomadi e destina milioni di euro per trovare un alloggio e pagare l'affitto ai gitani. Un atto di tradimento nei confronti dei centomila residenti nella capitale che vivono sotto la soglia di povertà. Andiamo anche sulla prima pagina della stampa. Ecco il titolo di apertura. In questo caso con le parole di Visco. Servono sforzi eccezionali. La relazione di fine mandato del governatore di Banca Italia. Il debito e le banche ci rendono più vulnerabili. Preoccupazione per il lavoro. Misure effimere secondo il governatore di Banca Italia. E poi vediamo anche la fotonotizia che troviamo a centro pagina. Viaggiare al tempo delle low cost. Un aereo nella foto della Norwegian Airlines all'aeroporto di Londra. Proprio questa compagnia collegherà Roma e New York a prezzi bassi. Con voli a prezzi bassi. Roma New York a 179 euro. Andiamo velocemente anche su qualche altro quotidiano nazionale. Andiamo a vedere la prima pagina di Italia Oggi che titola così in apertura. La manovra in cassa. La fiducia. Ritornano i voucher. Proroga di nove mesi per i dirigenti delle entrate. Stop agli studi di settore. Via le monete da 1,2 centesimi. Agevolazioni alle start-up. Queste le novità principali introdotte nel testo che è stato approvato dalla Camera ma che ora deve passare anche al vaglio del Senato. Chiudiamo la nostra carrellata sui quotidiani nazionali e andiamo a spostare ora la nostra attenzione sui quotidiani locali. Messaggero Veneto, Piccolo e Gazzettino. Ecco il Messaggero Veneto di Udine. Vediamo subito l'apertura. Un'apertura che prende spunto dalla giornata mondiale contro il tabacco che è stata celebrata ieri. Oltre 2.500 vite in fumo ogni anno. In Friuli Venezia Giulia 250.000 tabagisti. Un milione al giorno per le sigarette. E poi vediamo tutto l'articolo a pagina 4. Tutto l'articolo che ci fornisce altri numeri e ci racconta appunto la situazione. Il fumo uccide 2.500 friulani. Ogni anno scompare un paese come Bertiolo. In tabacco si spende un milione al giorno. E vediamo appunto questi 250.000 fumatori, 140.000 sono uomini, 110.000 le donne. La spesa, come dicevamo, un milione di euro al giorno. E poi le conseguenze sulla salute. Può causare 13 forme di tumore, ictus, infarto, ipertensione, broncopolmonite, impotenza, ulcera e perdita della vista. 2.500 morti all'anno. Questa la stima e 3.000 nuove diagnosi di tumore all'anno. Questa la fotografia scattata in Friuli Venezia Giulia e in Maudine ci sono anche dei corsi per smettere di fumare. Insegnano a smettere ma alcuni ci ricascano, dice il tossicologo che organizza questi corsi. Chiudiamo questa pagina, ritorniamo in prima e continuiamo l'analisi della prima pagina del messaggero Veneto. Andiamo nel taglio alto e vediamo le ultime per quanto riguarda l'autostrada. Abbiamo visto prima i cantieri ancora attivi sulla A4 e anche sulla A23. Si prepara un weekend difficile per quanto riguarda il traffico in autostrada. Settimana nera per il traffico tra ponti festivi e tir, ci dice il messaggero Veneto, anche per l'arrivo di tantissimi austriaci per il ponte di Pentecoste. Vediamo anche l'altro titolo. Chi sgarra non torna più a Lignano. Allora andiamo subito a pagina 2 e 3 e vediamo tutto l'articolo. Cantieri, ponti festivi e tir renderanno critica la circolazione da oggi a martedì. Sei giorni in coda, dice il messaggero Veneto. La polizia rafforzerà i controlli soprattutto in direzione Venezia. Ecco ancora tutta la pagina. Quella accanto ci parla dei provvedimenti messi a punto dalla Questura per evitare che ci siano delle devastazioni da parte dei tanti stranieri che arrivano in questi giorni sulle coste anche della nostra regione. Chi sgarra a Pentecoste non tornerà più a Lignano. La Questura ha stabilito il divieto che sarà applicato da 1 a 3 anni. Potenziate le misure di sicurezza, più pattuglie e rinforzi in arrivo da Padova. Ci sono buone notizie per quanto riguarda il meteo. Quasi estate su pianura e costa fino a domenica poi è lunedì. È in arrivo un peggioramento. Chiederemo conferma più tardi ai nostri esperti dell'Osmeralpa. Ritorniamo in prima pagina adesso. Vediamo subito la fotonotizia a centro pagina. Ci parla di una serie di lavori nelle sedi della regione, nella sede della regione, tornelli all'ingresso del palazzone. Blindata la sede di via Sabbadini. Questo per ragioni di sicurezza. I tornelli hanno fatto la loro comparsa nella sede della regione di via Sabbadini. Ieri gli operai hanno iniziato a montare telecamere, dispositivi girevoli. Un presidio di sicurezza già approvato da CGL Cisleville, ma non è mancata qualche critica da altre sigle. Sindacali. Rimanendo in questo taglio di pagina, vediamo anche quest'altro articolo che ci parla di un nuovo gioco molto diffuso tra i giovani, ma non solo. Stop allo spinner in classe. Scattano i divieti per la nuova mania dei ragazzini. Andiamo a vedere cos'è questo spinner, un giochino che si tiene in mano e che vuole essere una sorta di antistress. Eccolo, lo vediamo in questa foto. Stop alla trottolina. Vietato portarla in classe. Alla Manzoni proibito l'uso di tutto ciò che è inadeguato. Chiamatelo tormentone, scrive Riccardo De Toma, come le canzoni di Rovazio di Gabbani. Chiamatelo antistress, come lo presentano produttori e distributtori. Oppure chiamatelo finger spinner, che è poi il nome ufficiale della trottolina lanciata negli Stati Uniti e che da un paio di mesi sta impazzando anche da noi. Una piccola elica da far ruotare tra le dita prima per poi gareggiare a chi la fa girare più a lungo. Meglio se con l'accompagnamento di acrobazie ed equilibrismi da virtuosi. Popolarissimo tra bambini e ragazzini, tanto che le sue versioni virtuali per smartphone e tablet sono in cima alla lista delle app più scaricate. Lo spinner sta diventando una presenza fissa anche nelle scuole, soprattutto nelle ultime classi della primaria e nelle medie. Una diffusione sempre meno tollerata dagli insegnanti, che un po' dappertutto sono alla ricerca di contromisure per arginare l'invadenza di un gioco che spesso e volentieri fa capolino. anche in classe e ci sono alcune scuole che lo hanno già vietato come appunto la Manzoni di Udine. Ritorniamo in prima pagina, ancora qualche notizia di cronaca soprattutto. Andiamo di spalla e vediamo che non ce l'ha fatta l'imprenditrice Anna Maria Querini Collavini, che era rimasta ferita in un incidente stradale nei giorni scorsi. L'imprenditrice rimasta ferita nello scontro, non ce l'ha fatta. Ecco il titolo e poi nelle pagine interne abbiamo tutto l'articolo. A San Giorgio di Nogaro un cadavere finisce nella rete dei pescatori. Questo è il titolo in prima pagina e poi abbiamo tutto l'articolo nelle pagine interne, un articolo che appunto ci riferisce di questo ritrovamento. Vediamo se riusciamo a trovare l'articolo. Eccolo. cade dalla barca, trovato morto in una rete. Carlo Parselli, 70 anni di Muzzana, è scivolato in acqua al Marina Sant'Andrea. Il corpo è finito nel fiume Corno ed è stato pescato proprio ieri mattina da un pescatore. Il corpo senza vita è stato trovato impigliato nelle reti. Ancora qualche notizia di cronaca, sempre in prima pagina, sempre di spalla, un negoziante che non ha avuto paura dei ladri, è successo in Viale Venezia, negoziante bloccato, blocca il ladro e si riprende i soldi rubati. È successo appunto in Viale Venezia. Andiamo dall'altra parte, sempre sulla prima pagina del Messaggero Veneto, dove troviamo spazio per la politica ma anche per il futuro di Mediocredito, la banca regionale. Mediocredito è pronto per essere venduto, si è liberato delle insolvenze, ha ceduto infatti i crediti deteriorati pari a un valore nominale di 400 milioni di euro. L'acquirente è un colosso del settore, il fondo Bain Capital che tra l'altro è proprietario di Ideal Standard. A che prezzo reale sono state vendute le sofferenze? Tutte le risposte poi nelle pagine interne. E poi per quanto riguarda la politica, l'ipotesi di un voto anticipato per l'elezione del Parlamento rischia di fermare ancora una volta l'iter per il passaggio di Sappada al Friuli. Con il voto anticipato addio a Sappada in Friuli. L'iter rischia di ripartire da zero. E poi nel taglio basso un salto indietro nel tempo, il primo con l'articolo del professor Valerio Marchi che ci ricorda il 2 giugno del 1946. Così l'Italia scelse di essere una repubblica. E vediamo anche una foto del messaggero Veneto del 1946 che ci riporta appunto il risultato del referendum. E poi un passato più recente, un po' di Amarcord bianconero, quando l'Udinese di Zac conquistò l'Europa. Era il 2 giugno del 1997. Il messaggero Veneto titolava così in prima pagina per la prima volta l'Udinese timbrava il passaporto per la Coppa UEFA. Chiudiamo il messaggero Veneto di Udine adesso e andiamo sul messaggero Veneto di Pordenone. A proposito di calcio vediamo a centropagina questa fotonotizia che ci riferisce della vittoria in extremis del Pordenone contro il Cosenza ieri sera al Bottecchia. Pordenone una vittoria all'ultimo assalto. Un gol di Daniel Semenzato al 98esimo ha permesso al Pordenone di battere il Cosenza nell'andata dei quarti di finale di Lega Pro disputata in uno stadio Bottecchia gremito. Il ritorno si giocherà domenica in Calabria. Purtroppo sulla prima pagina del messaggero Veneto di Pordenone ci sono anche alcune notizie di Cronaca Nera. Un altro incidente stradale costato la vita a un motociclista. È successo ad Azzano Decimo incidente con la moto. Muore tecnico di 57 anni. Un uomo di Fontana Fredda tecnico alla Cimolai. E poi anche una notizia curiosa sempre da Pordenone. Scende senza la figlioletta gliela riporta l'autista del bus. E ancora a Prata lavaggio auto in parrocchia per finanziare la gita a Lourdes. Chiudiamo il messaggero Veneto di Pordenone e andiamo nell'isontino. Vediamo la politica in primo piano. Alleanze difficili al ballottaggio per il centro-sinistra. Appello di Cernic con Collini alle altre forze schierate in campo. Secconoda, Cecot, Criscitiello, Picco e Gargioli. Portelli apre. Quali possibilità ci sono al probabile ballottaggio che seguirà le comunali dell'11 giugno di vedere un'alleanza di centro-sinistra contrapporsi al favorito Rodolfo Ziberna? La domanda posta alla fine del confronto tra candidati sindaci organizzato dall'Ande, l'Associazione Nazionale Donne Elettrici, dal giornalista Cristiano De Gano, che conduceva il dibattito, ha rappresentato ieri sera in Sala d'Orabassi il momento politicamente più saliente. Con Manuela Botteghi, che per la terza volta ha sostituito Giancarlo Maraz fra i Cinque Stelle e Mara Cernic, che ha preso il posto di Roberto Collini. Di fatto sul palco con Federico Portelli e Ilaria Cercot, c'era la metà dell'ex giunta Gerghetta, le risposte non hanno svelato del tutto l'arcano, ma qualcosa. Hanno fatto capire questo il messaggero veneto di Gorizia, che adesso chiudiamo per andare sulla prima pagina del piccolo, il piccolo di Trieste. In apertura una notizia di cronaca, un'operazione antidroga che ha portato a 10 arresti. Ecco il titolo in prima pagina. Vendevano la droga ai ragazzini, presa la gang triestina, 10 arresti e 21 indagati. La base in un'osteria di via Giulia. E poi nella prima pagina del fascicolo dedicato alla città troviamo appunto tutto l'articolo su questo Maxi Blitz per fermare uno spaccio di droga. Trieste si scopre capitale della droga, 10 arresti e 60 chili sequestrati. Operazione dei carabinieri dai numeri clamorosi al termine di un'inchiesta partita tre anni fa in Spagna. I trafficanti avevano base in un'osteria di via Giulia, della quale uno dei pusher era stato gestore. Il gruppo era in grado di rifornire la città di hashish marijuana e cocaina, scoperte nelle perquisizioni anche pistole e soldi falsi. E poi vediamo anche l'intervento appunto dei carabinieri che hanno spiegato le dinamiche che hanno portato a questi arresti, telecamere, armi e messaggi criptati. Nulla veniva lasciato al caso per proteggere i centri logistici, ramificazioni e contatti in Lombardia, Liguria e anche oltre confine. Lo stupefacente era destinato ai giovani, dice ancora il comandante provinciale dei carabinieri di Trieste. La roba che circola è ancora tanta e vediamo parte dello stupefacente che è stato posto sotto sequestro. Ancora sempre sul piccolo, passiamo alla politica e vediamo questo articolo che ci fa un po' il punto all'interno del centro-destra, in particolare i nodi da sciogliere. La mina, larghe intese sul centro-destra, tondo stoppa i forzisti. Non possono guidare la coalizione se si va al Nazareno bis. Ma la replica è durissima. Senza di noi non si fa nulla. L'ex governatore evidenzia la necessità di un garante per la tenuta. Fedriga esclude alleanze locali nel caso ci fossero inciuci romani. Gli scenari di larghe intese mandano in fibrillazione il centro-destra del Friuli Venezia Giulia, dove gli alleati di oggi cominciano a guardarsi con sospetto e la possibilità di un'estensione dell'ipotetico accordo Renzi-Berlusconi preoccupa alcuni e solletica la fantasia di altri, nonostante il leader di Forza Italia abbia assicurato che l'accordo sulla legge elettorale non va considerato come il viatico per una successiva alleanza politica col partito democratico e a muovere le acque, come abbiamo letto nel titolo, è il capogruppo di autonomia responsabile Renzo Tondo. Chiudiamo anche il piccolo e andiamo adesso sul gazzettino, il gazzettino di Pordenone. Torniamo quindi nella destra tagliamento, il titolo di apertura ci riporta ancora sulla questione popolare di Vicenza, guerra giudiziaria, inchiesta trasferita a Milano, procura contro il GIP, scelta abnorme, vanificato il sequestro di beni per 106 milioni. Renzi dice che non c'è alternativa al salvataggio delle banche venete e visco critica all'Europa. troppo lenta. Andiamo adesso a vedere questa fotonotizia che troviamo a centro pagina e che ci parla di un'emergenza caldo. Scoppia l'emergenza caldo, sotto controllo 100 anziani. Ed è proprio questa la notizia che apre il fascicolo dedicato a Pordenone e provincia. Caldo, affa, i malori, scatta l'emergenza. Sono un centinaio gli anziani soli, con patologie che vengono monitorati. Ozono oltre i limiti, una ventina le persone soccorse perché si sono sentite male. In città e in provincia, temperature oltre i 30 gradi, comune pronto a far scattare i controlli. E poi ancora, sempre sul gazzettino di Pordenone, andiamo nel taglio basso e continuiamo a parlare di sanità perché c'è una protesta del Nursid, il sindacato degli infermieri, contro l'azienda sanitaria. Infermieri, arriva al concorso ma bisogna lavorare gratis. Uno simolo per molti, una realtà per altri. Inaccettabile per il Nursid, che ha chiesto all'azienda il ritiro immediato di un bando di concorso per titoli ed eventuale colloquio riservato a un posto di infermiere. Si tratta di seguire i disabili in vacanza. E poi ancora, rimanendo in questo taglio di pagina, ipertensione aumentano i casi tra i bambini. Ancora, sempre nel Pordenonese, vediamo anche quest'altra notizia che ci parla di un centro commerciale. Il centro commerciale, il Tar Boccia, ricorso milionario contro il comune. La banca finanziatrice aveva in pugnato il PRG. Al centro della vertenza c'era il piano regolatore approvato dalla giunta Pedrotti, l'ex giunta comunale di Pordenone, che modificava la zonizzazione e riducendo la superficie concessa per la realizzazione di un centro commerciale in Comina. La banca finanziatrice aveva presentato ricorso chiedendo i danni, ricorso che il Tar ha respinto. E vediamo poi i neroverdi vattono il Cosenza. La serie B adesso è più vicina. Tra poco parleremo anche di questo. Vediamo anche sul gazzettino la notizia dell'incidente. Costato la vita a un motociclista di 57 anni. e è avvenuto nella serata di ieri ad Azzano X. E poi una notizia che ci porta a parlare di fincantieri. Macron a gamba tesa, l'accordo con STX va cambiato. L'Eliseo vorrebbe escludere la fondazione CIR Trieste, prima grana nei rapporti tra Francia e Italia, dopo la nomina all'Eliseo di Emmanuel Macron. Il neopresidente è entrato a gamba tesa sull'accordo per l'acquisto da parte di fincantieri degli impianti di STX France. Nel corso della consegna della MSC Meraviglia, ieri ha annunciato di voler rivedere gli equilibri dell'azionariato. Secondo Le Monde, l'Eliseo vorrebbe scartare la fondazione CR Trieste. E poi ancora due notizie, sempre sul gazzettino, nel taglio alto. A Sacile, giornate degli sport estremi, studenti in difesa dell'evento. A Fiume Veneto, tentato furto in via Policreti, il ladro diabolic resta in cella. E prima di chiudere e passare la linea allo sport, andiamo a vedere anche la prima pagina del fascicolo dedicato al Friuli, che ci porta a parlare dei lavori del Consiglio regionale, che ha dato via libera alla legge per la riduzione delle nutrie, per l'abbattimento delle nutrie. Via libera alla mattanza, titola il gazzettino. Passa la legge dopo un duro scontro in aula e la protesta animalista in piazza. Sì all'impiego di armi da fuoco, resistenza dei 5 Stelle a colpi di emendamenti. Alla fine, il Consiglio regionale ha dato il via libera all'uccisione delle nutrie con armi da sparo. È stato approvato ieri, a larga maggioranza, il disegno di legge della Giunta, assieme alla proposta firmata dalla forzista Mara Piccin, astenuto Roberto Novelli. Originari del Sud America, questi mammiferi roditori risultano insediati e diffusi anche in Friuli Venezia Giulia, con gravi ripercussioni sull'ambiente e sull'agricoltura. L'obiettivo è il contenimento della specie, assimilata ai topi e ai ratti, fino alla sua eliminazione totale. Con questa notizia noi chiudiamo questa prima parte di Rassegna Stampa. Adesso ci fermiamo per un attimo di pubblicità e poi spazio, come sempre, alla Rassegna Stampa Sportiva. Rimanete con noi.